Ransel alla partenza della gara italiana corsa a San Severino Marche. Caratterizzata dal freddo e dalla pioggia, la gara italiana prevedeva un giro di 90 km con tre prove speciali, due fettucciate su grandi pratoni ed una definita in linea sul famoso crossodromo della cittadina marchigiana. La gara è stata come ogni anno l'occasione per tutti gli appassionati di enduro di vedere all'opera i migliori piloti del mondo e tifare per gli italiani, grandi favoriti sui terreni di casa. Ecco Stefano Passeri, attesissimo dai tanti tifosi venuti ad incoraggiarlo da ogni parte d'Italia. I tifosi italiani hanno dovuto fare i conti con la voglia di riscatto di Peter Hansel, che da grande campione qual è, non aveva affatto digerito le pesanti sconfitte in terra iberica. Mario Rinaldi ha trovato nelle marche il terreno ideale per esprimere tutto il suo potenziale in sella alla sua KTM 350. Anche Arnaldo Nicoli con la Osquarna sarà tra i grandi protagonisti della gara italiana. Un pericolo costante per le ambizioni di Rinaldi e Nicoli è il fortissimo svedese Anders Ericsson, qui impegnato in mulattiera. Kari Tjainen, al comando della classifica iridata, in Italia dovrà subire gli attacchi dei suoi avversari Katrinak e Farioli. Ecco Fabio Farioli, che in questa mulattiera vediamo seguito da Trampa Sparker, il fortissimo crossista che ha voluto provare fuori gara il percorso mondiale. Seguiamo alcuni passaggi caratteristici della gara marchigiana che ha visto i concorrenti transitare attraverso luoghi meravigliosi, ricchi di storie e di bellezze naturali. I percorsi sono stati resi più impegnativi e vicidi dalla pioggia che ha fedelmente accompagnato i concorrenti per entrambe le giornate di gara. Questi sono del resto gli elementi che caratterizzano l'enduro anche nei suoi aspetti non competitivi e che contribuiscono a rendere questa disciplina così appassionante e così diversa da ogni altra. Sotto la pioggia battente ecco arrivare i protagonisti del mondiale. Il primo a passare è, come sempre, Petteri Silvan, al comando della classifica della classe 125. Stefano Passeri è da sempre uno dei piloti più a suo agio sotto la pioggia e su fondo fangoso e viscido. Giorgio Grasso non ha trovato sui terreni di casa le condizioni ideali per affermarsi a causa anche di alcune cadute di troppo. Tullio Pellegrinelli, reduce da un'operazione al menisco, ha portato a termine le due giornate in ottime posizioni. Joe Sala, a causa di una serie di piccoli inconvenienti, ma soprattutto per la bravura di Peter Hansel, non è riuscito a regalare una vittoria ai suoi tantissimi tifosi. Nella giornata di sabato, Sala, dopo una caduta in un controllo orario tirato, è stato costretto a sostituire addirittura tutto l'impianto frenante anteriore e a continuare per tutta la giornata senza mai fermarsi per non rischiare di pagare penalità ai rimanenti controlli orari. Un Peter Hansel in piena forma è invece quello visto a San Severino. Con il suo perfetto stile di guida e la sua grande esperienza, il francese della Yamaha ha dominato la gara italiana lasciando ben poco ai suoi avversari. Mario Rinaldi mostra la completa padronanza della moto e le sue doti di equilibrista anche in questa ripida mulattiera. Anche Fabio Farioli non vuole essere da meno e si conferma sempre estremamente spettacolare. Nonostante una piccola indecisione, Fabio riesce a riprendere sull'erba viscida come se niente fosse. Per Jaroslav Katrinak la gara italiana porterà degli ottimi risultati. Questa è la prova speciale in linea della gara marchigiana. Molti dei nostri campioni, come Passeri che vediamo ora impegnato, hanno lamentato l'assenza di una vera e propria prova in linea, nella quale sono tradizionalmente superiori agli avversari. Passeri è comunque riuscito ad ottenere un magnifico risultato, grazie alla vittoria nella prima giornata e al terzo posto nella seconda. Protagonista di una gara sulla difensiva, Petteri Silvan ha chiuso con un terzo ed un quarto posto, in attesa di sferrare il suo attacco sui percorsi del nord Europa, a lui più congeniali. Tullio Pellegrinelli ha portato la sua Uxwarna due volte sul podio con un secondo e un terzo posto ed ha conservato così la seconda posizione in campionato. Su un terreno probabilmente più adatto al suo rivale, Joe Sala ha dovuto subire la prima sconfitta dell'anno e ha concluso con un terzo ed un secondo posto. Joe si è accorto subito che quella non era la sua giornata e quindi ha preferito non strafare, cercando di raccogliere punti pesanti per il campionato. Ed ecco quindi il dominatore della gara italiana, Stéphane Petteransel. Con due limpide dimostrazioni di classe, il francese ha provato a tutti, ma principalmente a se stesso, di essere ancora tra i grandi della specialità. In campionato comunque il distacco è già di 19 punti, forse troppi con un avversario come Sala e con piloti come Pellegrinelli e Scovolo sempre pronti a dire la loro. Nella lotta tra i titani dell'enduro, questa volta chi ha avuto la peggio è stato Fausto Scovolo. Quarto il primo giorno, dietro Petteransel, Pellegrinelli e Sala, Fausto è giunto quinto il secondo, preceduto anche dal re di vivo Paul Edmondson. Sempre accesissima la lotta per la supremazia nella 3.50 a quattro tempi, con Arnaldo Nicoli nelle posizioni di vertice. A San Severino, Nicoli ha ottenuto un terzo posto il primo giorno ed una splendida vittoria il secondo. Come al solito, in lotta con Nicoli, troviamo Mario Rinaldi, vincitore il primo giorno e secondo la domenica. Prestazioni eccezionali che gli hanno permesso di scavalcare, sia pure per un solo punto, l'amico rivale dell'Ustuarna. La lotta per la vittoria nella 3.50 a quattro tempi non vede impegnati solo Nicoli e Rinaldi. Lo svedese della Usaberg, Anders Eriksson, è sempre sul podio o nelle sue immediate vicinanze e mantiene quindi la pressione sui due italiani. Cari Tjainan accuse in Italia una battuta d'arresto alla sua marcia trionfale, che finora lo aveva visto imbattuto. Comunque con un terzo ed un secondo posto, l'asso della Ustuarna perde pochi punti nei confronti dei suoi rivali in campionato. Vincitore della gara di casa, grazie ad un secondo ed un primo posto, Fabio Farioli finalmente è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Secondo al sabato per uno spegnimento del motore in speciale, la domenica Fabio si è rifatto con una limpida vittoria che gli ha permesso di riacquistare fiducia nei propri mezzi. Pronto ad approfittare dell'errore di Farioli al primo giorno, lo slovacco Jaroslav Katrinak ha vinto la sua prima gara del 1995. Il divario tra lui e Tjainan è grande, ma Katrinak resta pur sempre l'ultimo superstite delle grandi dinastie e dei campioni dell'est europeo.